Buongiorno ed eccoci pronti anche per la rassegna sportiva dopo il weekend soprattutto di calcio in attesa che anche il basket inizi a disputare le sue partite ufficiali. C'è stato il torneo Piera Paietta che abbiamo seguito sia in diretta che con collegamenti dal Carnera ma si comincerà a fare davvero sul serio a partire dal 29 di settembre quando la GS affronterà in casa la Fortitudo Bologna per la prima giornata del campionato di Lega 2. Ma per quanto riguarda il calcio, ieri è stata una giornata che ha lasciato un po' l'amaro in bocca sia per l'Udinese che ha giocato una buona partita, discreta partita a Milano venendo fuori però con una sconfitta per 2-1 mentre il Pordenone era passato in doppio vantaggio a Bassano per poi farsi raggiungere sul 2-2. Pordenone che in ogni caso è momentaneamente da solo, primo in classifica in attesa del derby questa sera derby Veneto tra Padova e Vicenza con il Vicenza che insieme al Pordenone è a punteggio pieno e ancora deve giocare la sua quarta partita. Andiamo a vedere le pagine dei giornali cominciamo dalla prima del messaggero dove ci sono subito due spunti per quanto riguarda quello che vi ho appena detto e cioè il match dell'Udinese che ha pareggiato contro il Milan poi si è addormentato guardate che Udinese pareggia poi si addormenta il Milan ringrazia, un titolo che fotografa bene la partita Udinese che ha avuto le sue opportunità il Milan pure una partita caratterizzata dal doppio intervento del VAR su due gol che sono stati poi giustamente annullati quello di Lasagna e quello di Kalinic che erano stati segnati in fuorigioco per questione di un centimetro non più quello di Lasagna addirittura meno quello di Kalinic comunque l'arbitro guida si è avvalso del VAR su chiamata dello stesso arbitro del VAR per annullare il gol c'è anche un passaggio sulla maratonina di Udine che ieri ha visto migliaia di podisti correre da Cividali a Udine ma altrettanti correre in città con la Straudine in tutto il weekend diverse migliaia di persone si sono cimentate con la corsa in questo weekend ci sono tutte le classifiche pubblicate all'interno in festa con i podisti da Cividali a Udine dominio incontrastato del Kenya come avviene ormai quasi sempre nelle gare podistiche in generale nel nostro paese ma anche a livello internazionale andiamo all'interno per iniziare ad approfondire l'argomento Udinese con le prime due pagine che il messaggero dedica alla partita poi vedremo anche il servizio con tutte le azioni principali del match naturalmente il gol Udinese ha soliti regali Kalinic lancia il Milan inutile il pari momentaneo squadra in crescita ma non basta ovviamente si è affrontato il Milan che ha qualcosa in più rispetto al Genoa che l'Udinese ha battuto anche se delle tre sconfitte che l'Udinese ha rimediato in queste prime quattro giornate quella di Milano è quella che preoccupa meno perché la squadra ha lottato la squadra avrebbe potuto portare a casa un pareggio non sarebbe stato un pareggio rubato contro il Chievo e contro la Spal ovviamente l'Udinese aveva deluso in maniera assoluta tifosi silenziati da 50.000 rossoneri difficile far sentire la propria voce per i pochi supporti sull'Almeazza che poi solitamente vengono anche piazzati in posizione molto difficile per poter incidere con i loro cori sulla partita, sulla prestazione della squadra Lasagna fiducioso possiamo giocare alla pari con tutti poi sentiremo anche le dichiarazioni dei nostri Barak parla già come un vero uomo spogliatoio e soprattutto parla già italiano non benissimo ovviamente ma è un italiano che gli consente di sostenere per esempio le interviste come quella di ieri realizzata da Maurizio Ferrari scuffetta anche per lui prestazione in crescendo in generale per la squadra ma anche lui ieri si è disimpegnato bene poi vedremo anche i voti del messaggero e degli altri giornali ma diamo adesso spazio alle immagini vediamo come è andata ieri a Milano nel 2-1 con cui il Milan ha superato la nostra Udinese Appuntamento alla scala del calcio per la quarta giornata del campionato di Serie A Team 2017-2018 per l'Udinese di Del Neri che vuole ovviamente dare continuità alla vittoria convincente contro il Genoa ma dall'altra parte c'è un Milan che vuole risorgere dopo il 4-1 in campionato inflitto dalla Lazio Rivoluzione Montella 3-5-2 confermato dopo la buona parentesi vista in Europa League contro l'Austria-Vienna nessun cambio invece per Del Neri che conferma la formazione che ha fatto bene una settimana fa contro il Genoa parte benissimo Kevin Lasagna su un grande suggerimento di Maxi Lopez esulta l'Udinese ma è un'esultanza che viene interrotta dal simbolo che ormai sta diventando consueto nel nuovo campionato il simbolo del VAR lo chiama l'arbitro guida di torre annunziata viene avvisato dall'arbitro VAR che c'è un fuorigioco di Kevin Lasagna millimetrico ma le immagini sembrano lasciare pochi dubbi sul tocco di Maxi Lopez Lasagna è in fuorigioco poi palo colpito dal Milan sulla ribattuta di Bonucci Scufetti in qualche modo riesce a evitare il peggio poi De Paul sulla linea questa volta interviene la goal line technology gol che non c'è per il Milan si rimane sul risultato di 0-0 ma i rossonelli sembrano ispirati soprattutto con Kalinic prima da titolare per lui a San Siro arriva l'apertura per Calabria apre e chiude il triangolo Nicola Kalinic primo gol con la maglia rossonera il più atteso Montella ha creduto fortemente in lui lo ripaga l'ex attaccante della Fiorentina bello il cross di Calabria che taglia fuori anche l'intervento di Scufetti e Kalinic che anticipa Danilo Arachiri poi però di Romagnoli che serve un assist delizioso a Lasagna tutto molto bello per Romagnoli non fosse che Lasagna non fa parte del Milan ma dell'Udinese 1-1 della squadra friulana esulta a Lasagna primo gol per lui in campionato con la maglia dell'Udinese alla scala del calcio ovviamente un bel dato per lui secondo gol stagionale aveva già segnato contro il Frosinone in Team Cup la reazione del Milan è vemente tre minuti dopo colpo di testa di Chessi si addormenta un po' la difesa dell'Udinese e irrompe ancora una volta Kalinic ancora una volta con due colpi il primo rintuzzato dalla difesa poi sporca il pallone quel tanto che basta per spingerlo in fondo a sacco doppietta e grande esordio per l'attaccante della nazionale croata protesta De Paul ma lasciava proprio lui in gioco Kalinic ancora Milan super scuffette su questo colpo di testa di Romagnoli che non era potentissimo ma molto angolato e la deviazione di scuffette è provvidenziale a tagliare fuori soprattutto Bonucci che era pronto a ribadire in rete entra a Fofana subito un grande squillo del francese di nazionalità ivoriana che va via tutti perfino a Bonucci e poi spara su Donnarumma in uscita è un udinese che gioca molto bene all'inizio del secondo tempo ancora lasagna parecchia per il cross di De Paul di Testa Baic che ha sostituito Maxi Lopez il colpo di testa del bosniaco si adagia sulla parte superiore della rete della porta difesa da Donnarumma arriva poi il 3 a 1 del Milan ancora con Kalinic sull'ennesima verticalizzazione di Kessi spaventosa la sua prestazione ma remake simbolo del VAR e va ad annullare guida il gol di Kalinic anche qui siamo sul filo dei millimetri ma giusta la decisione da parte dell'arbitro finisce qui finisce 2 a 1 per il Milan che si risolleva e sale a quota 9 punti si ferma a 3 l'Udinese che si prepara poi per l'infrasettimanale contro il Torino di Mihailovic e dunque il VAR ieri è intervenuto due volte per annullare giustamente due gol che in condizioni normali sarebbero invece passati e comunque nella partita di ieri nel compito della partita di ieri avrebbero compensato eventualmente la situazione con due errori sia per quanto riguarda il gol di Lasagna che quello di Kalinic ma parliamo davvero di millimetri e meno di un centimetro per il fuorigioco di Lasagna quello che abbiamo imparato in queste giornate è che quando interviene il VAR alla fine va sempre ad annullare un gol nel caso dei gol dubbi perché evidentemente nella sala VAR hanno già capito che non è gol hanno già visto le immagini dunque tifosi preparatevi quando dopo un gol in sospetto fuorigioco vedete che l'arbitro fa il segno del VAR state pur certi che il gol verrà annullato ma vedremo insomma se ci saranno poi sviluppi diversi nel corso di questa prima stagione del VAR che comunque da un'indagine fatta dal quotidiano Repubblica proprio quest'oggi ha corretto molti errori dunque è sicuramente uno strumento che fa bene al nostro calcio un nostro calcio che in passato è sempre stato avvelenato da furibonde polemiche per gli errori arbitrali adesso ce ne saranno sicuramente di meno andiamo a vedere adesso all'interno sempre del messaggero le altre due pagine dedicate alla partita di ieri dove ci sono le dichiarazioni di Del Neri Gigi non si accontenta serve la perfezione buona prestazione ma dobbiamo essere più attenti e qui vediamo una foto di Valon Berami seconda partita per lui dal primo minuto dopo quella giocata contro il Genoa le pagelle Samir Depol non ci siamo Lasagna Maxi la coppia va vediamo i voti a Scofetti viene dato un 6 da qualche parte abbiamo visto anche un 7 gli viene riconosciuto comunque di essere incolpevole sui gol e di aver anzi sventato altre azioni altre opportunità per il Milano con ottimi interventi e viene anche sottolineato che non ha assolutamente perso il duello a distanza con l'altro giovane prodigio della porta italiana e cioè Donna Rum poi una sufficienza per Striger Larsen che ieri ha dimostrato di essere sicuramente un buon giocatore un ottimo giocatore per Danilo un voto sotto la sufficienza 5,5 sufficienza anche per Nighting 4,5 invece per Samir giudicato in maniera dura dal messaggero la sua prestazione sufficienza per Berami sotto la sufficienza Repol bene anche Barak 6 ha confermato quanto di buono avevamo già visto contro il Genoa sotto la sufficienza Youngton 7 per Lasagna che di gol ne ha fatti due due palloni buoni gli sono capitati scrive il messaggero li ha capitalizzati bene il primo purtroppo era fuori gioco poi 6 Maxi Lopez per lui due giocate d'autore assist per Lasagna dopo essersi liberato di Bonucci e poi ha liberato anche Youngton in area stoppato successivamente da un avversario bene anche Fofanà che è entrato a partita in corso e ha giocato sicuramente sicuramente bene poi bene anche Baic che sta crescendo a vista dal punto di vista della condizione fisica ormai ci siamo ed è anche un giocatore spendibile per più minuti mentre per Matos 5 è entrato nel secondo tempo anche lui non è riuscito ad incidere sulla partita come forse il mister avrebbe voluto e a proposito del mister andiamo a sentire le dichiarazioni di Gigi Del Neri al microfono di Maurizio Ferrari Del Neri una partita ce l'aspettavamo così ci aspettavamo un Milan che avrebbe dato filo da torcere così è stato anche se Udinese è stata molto presente in campo potrebbe essere gestita meglio ovviamente l'1-1 potrebbe essere molto più attenti in quello che cade sul campo non possiamo concedere un poco alle squadre di questa importanza perché hanno giocatori importanti che hanno effettuato dei gol hanno aggressività hanno anche un po' di fortuna con il tiro nel primo tempo di Calabria che è un tiraccio mezzo lì che è stato un tiro in porta mezzo casino però la squadra si è stata in partita ha avuto le sue occasioni è uscita bene come concetto anche mello fisico ha tenuto bene per tutti i 90 minuti ha cercato il pareggio fino in fondo e questo per me è importante torno a ripetere l'udinese deve lasciare di dietro Chievo e Spal perché hanno giocato due partite non l'udinese e tenere sul piatto della bilancia Genova e Milan come ha detto il nostro cambiato comincia con Genova e continuare a fino in fondo per la squadra a margine di miglioramento ci vuole un po' di tempo perché 3-4 giocatori nuovi in campo non è che si inventano velocemente diamo tempo loro di saper muoversi in campo bene di poter avere attitudini giuste poi io penso che la strada giusta è questa per poter andare avanti la scelta proprio di confermare questo undice era anche per dare minutaggio e fiducia ai nuovi che aveva inserito nella scorsa partita sì ma adesso mercoledì ci saranno dei cambi sicuramente perché le prestazioni di Fufana oggi ha dato importanza importante lì in mezzo al campo la prestazione di Barac è stata importante anche oggi quindi Lasagna ha fatto gol quindi andiamo sulla forza sua vediamo due o tre cambi ci saranno perché le forze adesso incominciano devono essere importanti e anche lo stimolo deve essere quello di avere tutte le disposizioni per la causa l'unice è questa quest'anno lanciare i giovani baglierà i giocatori sia mercoledì sia domenica prossima per avere sempre gente forte in campo che abbia voglia di far bene poi le prestazioni sono queste certe volte magari ti va anche male però ti dà fiducia non sei venuto fuori dai campi di oggi non ho visto niente invece oggi ho visto tanti errori come ci sono sempre sta sempre ma tante cose buone sulle cose buone bisogna continuare e sugli errori bisogna migliorare due flash nota positiva lasagna che è andato a segno due volte in gol è ridicolo il primo fuorigioco alla calamita per la vara due millimetri vuol dire anche secondo forse loro per avere due millimetri dai due gol per la partita finisce tre a due sempre in pubblico vuol dire sono due annullamente ridicoli e invece la nota negativa questo battidecco nel finale con l'arbitro ho detto se io devo munire il mio collaboratore buttarlo fuori per un fallo nostro non dato mi sembra che sia una cosa che non vada bene c'è un po' di rispetto non è che devo prendere 20 punizioni a metà campo gli altri e tre punizioni e quattro da mitra in area sono due cose diverse come concetto personalmente mi dispiace che siano queste direttive riflessuali deve essere una cosa molto più serena dare le cose che ci sono ha dato le seguenze che ci sono ha fatto andare il gioco spesso di qua di là ha munito di qua di là lascia andare è finito se non farlo devi farlo ma non buttare fuori la gente perché sicuramente i risultati sono importanti siamo tutti tesi farla andare anche se devo dire oggi per esempio la vara è stata chiamata ma perlomeno non si è perso tempo ad andare a vedere se è a rollo o non rollo e questo mi sembra che abbia agevolato la ripresa veloce del tempo e non recupero molto più altro è stata una nota positiva di oggi una delle note è stata non perdere il tempo della vara non perdere il tempo della vara sicuramente è un dato da sottolineare andiamo a vedere il gazzettino adesso con titoli e anche i voti che il gazzettino ha dato alla squadra ieri dopo la partita di Milano vedrete che c'è qualche piccola differenza a furia del neri selve maggiore attenzione il tecnico potremmo evitare soprattutto la seconda rete per far risultato contro il Milan devi essere perfetto sono le parole che ha appena pronunciato anche al nostro microfono che abbiamo ascoltato Lasagna a tratti devastante queste sono le pagelle Iancto a corrente alternata nonostante la sconfitta la squadra è parsa in crescita vi dicevo delle differenze 6 e mezzo scuffette un mezzo punto in più rispetto al messaggero mentre a Larsen viene tolto un mezzo punto 5 e mezzo anche se gli si riconosce che la gara non è stata macchiata da Grossolani errori quindi un 5 e mezzo forse che poteva essere un 6 con Bace invece il voto per Danilo 5 e mezzo Nighting 6 per Samir 5 e mezzo un punto in più rispetto al 4 e mezzo del messaggero poi De Paula lì sotto della sufficienza anche Barak sotto la sufficienza a differenza del messaggero così come Berami per quanto riguarda gli altri Maxi Lopez 6 scorrendo dal basso Baic 6 per loro il voto è confermato rispetto a prima Lasagna 7 anche qui stesso voto per Matos sufficienza invece della insufficienza sottolineata dal messaggero sufficienza anche per Iancto che aveva preso mezzo punto in meno sull'altro quotidiano per Fofanà 6 e mezzo mezzo punto in più quindi qualche differenza nei voti ma come sapete i voti sono un fatto soggettivo a seconda del giornalista che li compila possono variare ovviamente è giusto che sia così è normale che sia così Scufetto ci mette la faccia partita di sofferenza beh ci mette la faccia mi sembra un po' esagerato perché l'Udinese non ha subito una debacle a Milano ha giocato la sua partita l'ha persa ci sarebbe stato da mettere la faccia in caso di partitaccia e di goleada del Milan è stata una sconfitta in una partita normale chiamiamola così e non disastrosa come quelle contro il Chievo e contro la Spalle che avevano penalizzato la formazione di Denneri nelle prime due giornate siamo quasi pronti per collegarci per quanto riguarda il traffico aspettiamo ancora un attimo e allora nel frattempo andiamo ad ascoltare le parole di Kevin mi dicono che è pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Municipale per quanto riguarda la situazione del traffico buongiorno buongiorno a voi in città al momento il traffico seppur piuttosto intenso risulta abbastanza scorrevole ecco si registrano rallentamenti all'altezza della rotatoria che intersecca le vie Monsignor Nogara e della Faula la zona del Terminal Studenti per intenderci ecco segnaliamo inoltre nella giornata odierna lavori per la rete di teleriscaldamento sulle vie Gemona e Santa Chiara possibili disagi alla circolazione quindi segnaliamo anche la riapertura delle vie Pordenone via Passons riapertura al traffico per chiusura precedente per lavoria con null'altro al momento grazie ringraziamo Sandro Favotto Vice Ispettore di Polizia Municipale di Udine per queste informazioni importanti soprattutto quelle di servizio ogni mattina perché fortunatamente per quanto riguarda ingorghi di traffico raramente siamo costretti a parlarne la circolazione in città è sempre scorrevole ci sono però queste notizie di variazioni o possibili variazioni o rallentamenti della viabilità a causa di lavori in corso che è sempre bene tenere sotto controllo grazie alla Polizia Municipale torniamo a noi torniamo di nuovo sui giornali abbiamo visto i titoli del messaggero e del gazzettino io vedo David pronto per un collegamento allora chiedo alla regia ed eventualmente a David se ci sta ascoltando se vogliamo effettuare subito il primo collegamento di oggi mi dicono ancora un attimo allora andiamo con Kevin Lasagna andiamo con Kevin Lasagna per sentire le parole di chi ieri ha segnato una doppietta una purtroppo doppietta che alla fine è diventato un solo gol perché il primo gol è stato annullato per fuorigioco sentiamo ancora oggi è successo con me non l'ho ancora rivisto però effettivamente si è detto che era fuorigioco guardano apposta quindi penso sia giusto eri stato freddissimo sei stato altrettanto freddo in occasione di una palla che è capitata lì un po' quasi per caso tornando a dimostrare quel feeling con il gol che hai avuto un po' per tutto il precampionato sì esatto avevo smesso le prime giornate di campionato comunque di andare a segno adesso ho fatto il gol oggi ed è molto importante per me peccato per il risultato perché la prestazione era davvero ottima di squadra ecco soprattutto nel primo tempo avete creato un po' di grattacapi in occasione dell'episodio poi contestato del VAR che poi contestato non è perché effettivamente era offside una grande sponda ancora una volta di Maxi Lopez una giocata che si era vista anche con il Genoa state continuando ad affinare questo team sì sicuramente comunque allenarci serve a quello per aumentare il feeling tra le parti e tra giocatori adesso viene un altro impegno ravvicinato è una settimana complicatissima però uscite da questa partita convinti di poter battagliare un po' con tutti perché comunque il Milan ha dovuto soffrire fino alla fine certo comunque sono partite che ci danno consapevolezza dei nostri mezzi comunque possiamo far bene possiamo lottare contro tutti come ti senti tu tra l'altro anche dal punto di vista fisico perché poi questa è una settimana importante che da questo punto di vista come esci da San Siro dopo questa battaglia esco stanco perché alla fine si dà tutto in ogni partita però con lo staff medico vedremo di recuperare più presto e allora si esce stanchi ovviamente c'è un impegno ravvicinato questo vale un po' per tutti l'Udinese poi ne avrà un altro ravvicinatissimo perché previsto l'anticipo contro la Roma si giocherà il 23 alle 15 quindi con qualche ora in meno addirittura rispetto ad un recupero normale tra una partita e l'altra ma come dicevamo queste sono cose che riguardano tutte le squadre con tre partite in una settimana assolutamente il compito all'Udinese è quello di recuperare in fretta anche energie mentali per far bene nelle prossime due gare contro Torino e contro Roma due avversari sicuramente non facili ma per questo anche stimolanti per cui ci aspettiamo sicuramente delle ottime prestazioni andiamo da Davide Zanirato perché torniamo oggi a Cussignacco in Edicola riapriamo la stagione dei lunedì dello sport in Edicola per parlare di calcio in particolare di lettanti ma un po' di tutto il calcio regionale ed anche in generale dello sport della nostra regione Davide buongiorno Buongiorno Francesco e sì abbiamo rialzato la Sara Cinesca qui all'edicola di Gigi Lanzilli a Cussignacco tra poco lo andremo ad ascoltare per vedere appunto come ci accoglierà in questa nuova stagione ci sono già vi preannunciamo alcune novità alcune sorprese prima però legandoci appunto alle prestazioni dell'Udinese ci ha raggiunto Mario che è uno dei tifosissimi bianconeri e con lui stavamo appunto commentando sono usciti molti segnali positivi dal match di ieri secondo me sì anche perché ho visto la condizione che è cresciuta per cui hanno lavorato bene e tutto il resto hanno fatto una partita positiva e chiaramente c'era un Milan davanti che ha molto più possibilità di noi di andare a Pog in Grete questo è sicuro abbiamo visto un ottimo Lasagna e poi anche la crescita di Barac Lasagna Barac ho visto anche Samir che sta riprendendo bene ho visto vorrei vedere un po' di più magari come si chiama il ragazzino Pezzella magari a tratti perché penso sia un bel prospetto di giocatore per il futuro anche speriamo bene dai infatti di fare i punti quando servono iniziamo subito a sperare appunto nella sfida di mercoledì col Torino speriamo sì giochiamo in casa speriamo di fare una bella partita è importante fare belle le partite poi i punti sicuramente vengono se si gioca bene grazie grazie al signor Mario allora tra poco ci risentiremo sempre qui da Cussignacco per vivere questa mattinata del lunedì sportivo assieme a più tardi grazie Davide prima della pubblicità andiamo a leggere i risultati al completo del quarto turno del campionato di Serie A che si è sviluppato tra sabato e domenica con Chievo Atalanta che è finita allora andiamo per ordine Crotone e Inter è finita 2 a 0 quindi parliamo prima degli anticipi che si sono giocati sabato ben tre l'Inter che ha vinto 2 a 0 non senza difficoltà a Crotone e poi la Fiorentina che ha battuto il Bologna per 2 a 1 Roma batte Verona 3 a 0 in serata la Juventus ha vinto ieri contro il Sassuolo il lunch match per 3 a 1 con tripletta di uno strepitoso Di Bala poi il Milan Udinese 2 a 1 il Napoli che ha giocato a tennis contro il Benevento 6 a 0 Spalcagliari vince il Cagliari 2 a 0 a Ferrara 2 a 2 tra Torino e Sampdoria con rete del nostro ex attaccante Dovan Zapata poi Chievo-Atalanta 1 a 1 Genoa-Lazio è finita 3 a 2 con doppietta di Immobile un Lazio che ha iniziato il campionato molto bene un Lazio straordinario che ha iniziato la stagione così come ha chiuso quella dell'anno scorso cioè con ottimi risultati stagione ricordiamo iniziata anche con la vittoria della Supercoppa questa è la classifica che vede in testa tre squadre Inter, Juventus e Napoli per la differenza reti il Napoli in questo momento è considerato primo rispetto alle altre ma sono tutte lì a 12 punti la Lazio è a quota 10 poi Milan e Torino a 9 e a 8 Lazio che torniamo facendo un gradino indietro percorrendo un gradino indietro Lazio che è in zona Champions perché ricordiamo a tutti che da quest'anno la quarta in classifica si qualifica per gli spareggi di Champions League per il playoff dunque da quest'anno l'Italia tornerà ad avere quattro squadre qualificate tre dirette una attraverso la disputa dei playoff quindi almeno con una possibilità di poterne portare quattro alla fase a gironi il Milan e il Torino come dicevamo 9 a 8 sono lì alla finestra poi Sampdoria a 7 Roma Fiorentina Cagliari 6 Roma e Sampdoria non ha partito in meno quella rinviata per l'allarme meteo della scorsa settimana Bologna Spala Atalanta e Chievo 4 Udinese 3 Genoa Sassuolo Crotone Verona 1 Benevento e fermo al palo con 0 punti dopo 4 partite questa è la classifica sono le 8 in punto ci fermiamo per la pubblicità tra poco ritorneremo qui e continueremo a padare di sport ci collegheremo con Cussignac avremo anche Angela Caino per approfondire altre notizie che arrivano dal mondo dall'Italia e ne andremo a pescare sul web come di consueto a tra poco